Capitano, è bene? Ben addestrata, furtività, infiltrazione, estrazione. È delle forze speciali. Hayden Versio. Squadra Inferno. Comandante, Versio. Sei importante. Guardami. Voglio essere chiaro con te. Sono qui per questo. Tu hai il codice di attivazione. E io potrei aiutarti. Ti basta dirmelo. Sai che potresti servirci. Tu dai una mano a me e io la do a te. È solo questione di tempo. I miei tecnici stanno frogando nel tuo droide, lo sai. Accetta l'offerta. Dammi il codice. È giunta l'ora per l'impero. Ma tu puoi ancora salvarti. Hai ragione. È proprio giunta l'ora per l'impero. VZ. 626. VZ. 626. Cosa abbiamo qui? Un droide tattico ID-10? Sei più sofisticato del modello ID-9. Provi a starti dentro, non sarà affatto facile. Posso suggerire una procedura meno invasiva. Il problema è che non abbiamo il codice d'accesso del droide. Posso suggerire di trovare il codice. Il capitano ci sta lavorando al centro di detenzione. Fino ad allora, l'unico modo per accedere ai dati è rimuovere il nucleo di memoria dal telaio. Su questo droide ID-10 è stato installato un pungolo polvorale. Che non funziona se il droide è disattivato. Finché non... Signore, fate che l'ID-10 sia stato attivato a distanza. Droide, esegui il piano. Scarica gli schemi della nave dai loro computer. Poi vieni guida lì. Non lo toccare. Adesso... Ciò che direi se qualcuno potesse sentirmi... E questo non è il caso. Non è consentito. Raggiungimi attraverso i condotti di areazione. Ti preoccupi troppo. Mi domando vuole un rapporto sulla trasmissione imperiale intercettata. Grazie. Ti serve. Siamo riusciti a decifrarvi. Il comando si aspetta aggiornamenti prima di Endor, se possibile. Ci mettiamo più del previsto. Il codice è incredibilmente complesso. Parola resta di più per accederare che sono limitato a un progetto. parola resta di più per accedere. Ci sono troppi ribelli fuori dalla mia cella. Tra un altro modo. La mia cella è la mia cella. Hanno attivato l'isolamento. Devi revocarlo da uno dei terminali. Contattami quando hai finito. Come metto? Avevi ragione. Giunto del cannone è disponibile. Disattiva l'isolamento di sicurezza. Poi vieni da me. Se hai finito, vieni qui. È il momento. Mi sento nel condotto. Sei vicino. Giusto in tempo. Andiamo. Agente Ask, mi ricevi? Affermativo, comandante Versio. Tipismo perfetto. Sto andando al centro comunicazione. Ricevuto. Eliminato il messaggio imperiale rubato. Darò il segnale per il recupero. Trossi, apri luce. Ehi, piantala. Ci terremo qui fin dopo Euron. Poi decideremo cosa farcene di te. Quindi, fino ad allora, stai fuori. Hanno dei dubbi sulla tua cattura? Non sospettano di nulla. In effetti non stiamo seguendo il protocollo. Avremmo dovuto distruggere la nave. Avremmo destato tutti i sospetti. In questo caso serviva discrezione. Molto bene, comandante. Ormai saprete del segnale che indica alle navi dell'alleanza di raggiungere il sistema Galà. Con questo inganno distoglieremo l'attenzione dell'impero da Sauras. I belli credono ancora che non sappiamo di Sauras. Non hanno idea di cosa li attenta. E le cose devono restare così. Se decodificano la trasmissione prima che io la cancelle, il piano fallirà. Devi accedere. È ora. Raggiungeremo il resto della flotta intorno a Sauras. Ho ricevuto le coordinate dal capitale. Abbiamoli per guida. comum succederemo il resto della trasmissione. Toccate. Dame una scansione. Accedi, presto! Scassione. Puoi chiedere a che punto sono con la trasmissione imperiale? Non resta per tempo E farmi urlare addosso di nuovo? Io là non ci torno Agente Asker, sono al centro comunicazione Cancellare il messaggio farà scattare l'allarme Pronti a recuperare Per l'ultima volta lasciatemi lavorare Il codice imperiale è molto complesso Sto cercando di decifrare il messaggio Ma non ci riesco se continuate a interrompermi e a chiedermi aggiornamenti Ho trovato il messaggio cifrato Capitano Ray, abbiamo nuovi opi La trasmissione imperiale ci sposterà dalla parte opposta di Ender Lì attenderemo l'attacco dei ribelli Eliminato I ribelli non sapranno Attenzione, una prigioniera imperiale è fuggita È estremamente pericolosa Trovatela Agente Asker, è il momento Inizio i preparativi Prendo un blaster e vado al punto di recuperare Sono in movimento Anche il Corbus Fermate la prigioniera Prima testa da lì Attenzione all'ordine Non lasciatela fuggire ... ... Grazie a tutti. 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 Scalcio. Grazie a tutti. Scalcio. 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 Yeah. Scalcio. 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 . Scalcio. 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 La flotta non è stata compremessa Oggi è la fine della ribellione Piet, razza d'idiota Contatta la squadra Inferno, ora Comandante Versio, rapporto Rilevata una squadra di recupero ribelle Ma è tardi per catturare i Sabotatori Qual è lo stato del generatore di scudo della Morte Nera? Peggio delle aspettative Non si può riparare o riattivare Allora la stazione è vulnerabile Eliminate quei ribelli e tornate sul Corbus Il piano dell'imperatore deve riuscire Sì, signore Ask, con me Mico, tu ci coprirai da qui Un bersaglio, qui davanti State con me Ricevuto, comandante Situazione? Vi è al generale solo che potrebbe volerci un po' Se c'è qualcosa da recuperare lo troveremo Ma i danni sono ingenti Ci sono molti rottami tra cui rovistare Riferito, tornate con i... Atenta, comandante Un bersaglio lungo il sentiero Atenta, comandante Atenta, comandante Un miglior Roku è un esatto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricerca nemici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scalzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ma non possono essere tutti. Quei comandanti ribelli si sono già spostati. Seguiamoli. La piattaforma 4 è vicina. C'è una navetta? No, solo cacciatai. Ancora meglio. Stiamo attenti. Non sappiamo quanti ribelli siano. No, ci occupiamo. No, ci occupiamo di fare... come con gli altri. Oggi spazzeremo via quella feccia una volta per tutte. Non è possibile! Coraggio, agenti. Piangeremo dopo. Adesso dobbiamo muoverci. Con te, comandante. Andiamo alla piattaforma 4 e prendiamo i cacciatai. Solo così torneremo al corpus. Tu, Miko, in pattuglia. Sì, comandante. Agente Ask, contatta l'Eviscerator. Devo parlare con l'ammiraglio. Sì, comandante. Apro subito un canale. Ammiraglio, la squadra Inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? Il viceammiraglio Sloan ha ordinato la ritirata. Abbandoniamo il sistema. Raggiungi la tua nave, comandante. Sopravvivi. Ti invio le coordinate del rendezvous. Sì, signore. Vi contatteremo appena saremo sul corpus. Com'è potuto accadere? La trafona era perfetta. Qualcuno ha sbagliato. L'alto comando ha trascurato un dettaglio cruciale di nuovo. No, deve esserci dell'altro. Noi eravamo più numerosi e meglio equipaggiati. E' semplice. L'imperatore ha sottovalutato i nostri nemici e ne abbiamo pagato il prezzo. Comandante, questo... Posso parlare liberamente? Concesso. Attenzione, comandante. Battuglia ribelle in arrivo. Grazie, agente Meiko. Ce ne occupiamo noi. Scansione. Contatto visivo con la pattuglia. Dovremmo... Fuoco! Mi abbatto! Battuglia neutralizzata. È quello che meritavano. Comandante, attuato ribelle. Abbiamo perso una navetta e i nostri uomini sono sopraffatti. Occhi aperti, agente. Noi faremo il possibile. Mostrani le minacce. Camminatore di sotto, i ribelli li hanno intrappolati. Aiutiamo i nostri soldati. Andiamo. In posizione per rispondere al fuoco. La squadra è in ferro. In ferro, stai da quanto da Endor? Rispingiamo gli in ferro. Ricevuto, comandante. Siamo con voi. In ferro. Siamo con voi. In ferro. 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 Riccielca dei miei. in ferro. In ferro. In ferro. Grazie a tutti. Non aspettavamo le forze speciali. E' questo il voto, sergente. Grazie, comandante. Siamo in debito. Evidentemente, tenete gli occhi aperti. Qui abbiamo già perso due pazzotti. Non voglio perderne altre. Tieniti pronto, agente Aska. All'attacco! Salute! 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 Qui abbiamo finito. Agente Mico, la tua posizione? Ho radunato la squadra vicino alla piattaforma. Aspettiamo te, l'agente Ask, per muoverci. Arriviamo. Agente Mico, rapporto. I ribelli hanno occupato la piattaforma 4. Ci sarà da combattere per riprendere. Siamo qui per questo. Soldati! Dobbiamo strappare quella piattaforma al nemico e lasciare questa luna. Poi la ribellione ce la pagherà cara per tutto questo. Sì, comandante. Siamo con te. Per l'impero! Dammi una scassione. Aprire il gioco! E' un ufficiale. Camminatore rubato! State giù! Comandante. Quella corazza resiste ai blasti. Mostre le minacce. No, non sono scopo! No, non sono scopi! No, non sono scopo! Sì, è avuto! Sì, è avuto! Sì, sono andati! Camminature scalte a terra. Ripeto, anti-STA a terra. I ribelli non riescono a vincere neppure con le nostre armi. Non siamo a sostenermi! Ribelli neutralizzati. La piattaforma è nostra. Agli ascensori. Vediamoci in cima e prendiamo qui i tai. Sì, signora. Ricevo. Comandante, contatto sulla piattaforma. I nemici stanno sabotando le nostre navi per impedirci la fuga. Abbattiamoli e prendiamo i cacciatai per la fuga. Eliminare ed evacuare. Ricerca nemici. Avanzare! Ampio, prendi il primo dai. Spara il corpus alla ritirata. Sì, comandante. Sì, comandante. Agente Mico, è il tuo cacciatai. Ci penso io a coprirti le spalle. No, vai. Prima entrare, ultima uscire. Arte collo, comandante. Arrivo subito. Scansione all'aria. Sbaglio una scossa laggiù. Chi sei, comandante? Carcio acquisito. Ci vidiamo lo su, agente. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sembra pienamente operativo. Almeno Ask non è da solo sul Corvus. Forse possiamo ancora uscire nei vivi. Agente Ask, ci avviciniamo al Corvus. In che stato sono i motori? Iniezione a ioni al 60%. Deviò l'energia degli scudi per riavviare i sistemi di propulsione. Comandante, caccia in arrivo. Bombardieri, bombardieri, inventiamo il Corvus. I bombardieri stanno attaccando. Comandante, c'è un bel colpo. Dovrebbe bastare Agente Ask, rapporto Abbiamo le coordinate del rendezvous, ma ci serve tempo per riparare i motori Me lo daremo Agente Mico, occupiamoci dei bombardieri Colpo diretto Versaglio eliminato Tori quasi pronti, comandante Il mio scanner, rileva altri bombardieri Niente vale Caccia eliminato Uno in meno Tempismo perfetto Agente Mico, al Corbus, io ti seguo Comandante Versa Ordina alla tua nave di ritirarsi Poi raggiungimi sulle visse retor Signore? Ordini confidenziali, comandante Te li darò di persona Sì, ammiraglio Squadra inferno Io e l'ammiraglio vi raggiungeremo in seguito Ricevuto, comandante Mi cercavate, signore? Vieni qui L'imperatore è morto Che succederà ora? Ci vendicheremo, comandante L'impero colpirà la ribellione esattamente alla radice delle sue patetiche e profonde convinzioni Dimmi, Aiden Da dove hanno origine tale convinzione? Speranza Esatto Lo vedi? La sua presenza è un grande onore Che condividerò con mia figlia Ammiraglio Versio L'operazione cenere deve iniziare immediatamente Resistenza Ribellione Tradimento Queste sono idee che non possiamo più continuare a tollerare Tu sei uno dei molteplici strumenti che ci permetteranno di spanzare via questi ideali Ascolta il messaggero Lui ti indicherà il tuo prossimo bersaglio L'operazione cenere è l'ultima volontà dell'imperatore Il primo passo verso il nostro futuro La inferno ha un ruolo cruciale per il successo Qual è il bersaglio? Identità non verificata Questa informazione può aspettare Per ora I tuoi ordini sono questi Sono insoliti Ma questi sono tempi insoliti Vai comandante Fai quello che fai meglio In vista dell'operazione cenere siamo stati assegnati ai campieri di Fondor Agente Ask, noi due prenderemo i satelliti sperimentali per lo Star Destroyer Dauntless E garantiremo la sicurezza per il Mofreit Agente Mico, a te il Corbus Comandante, satelliti al sicuro Ottimo lavoro Il Mofreit ha detto che l'operazione cenere può proseguire Attenzione, attenzione Qual è il piano, comandante? Proteggere lo Star Destroyer Non devono sapere dell'operazione A presto A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.